Tuttavia, il motivo più importante di questi primi scritti di LG è costituito dall'elemento propriamente storico, cioè dal comportamento tipico di un determinato uomo, quello che vive nella Marsica, in un particolare momento e in una ben precisa situazione sociale, economica e culturale. E su questo uomo marsicano prende vita e acquista a colore l'irripetibile umorismo di Giulio Lucci. Anzi, negli articoli di Pie e Contrapie si può riscontrare fin dall'inizio una nota di comicità che trova la sua espressione più adeguata nelle due figure antitetiche complementari di Biasine e Rantucce. Il primo più saggio, di una saggezza tutta popolare e arguta e disincantato. Il secondo più rozzo, ignorante ma ugualmente gustoso nella sua volgarità tutta ingenua e popolaresca. Si pensa ad esempio al primo dialogo tra i due avezzanesi, in cui, ad un Biasina che cerca di convincere l'amico ad affrontare il proprio destino con la rassegnazione dei poveri e dei buoni, risponde un Rantuccio grossolano e caricaturale, tipicamente abruzzese, soprattutto negli epiteti con cui parla della propria moglie. A te, che sei una amica buona, una confidenza te la posso pure fare. Io, giugno a me, me la sposetta positiva per quella poca terra che c'era messa in faccia la bonettarmi a mio padre, ragazzi, no? Tu bia sì, ma ti ricordi prima che io ti ero muta, quando eri genotti, no? Te lo sarresti immaginato tu che un bello vaiolo con mamma se sarei sposato con una scherchegna donna da quella. Ma, presentamente, se la legge italiana fosse un'antica tanta nebocarea giusta, quant'è il momento? Ma perché non mi s'angolla pure qui c'è rotta da moglie ma insieme alla terra, sì? Dalle parole di Rantucci viene fuori questo personaggio femminile, fortemente caratterizzato sia nel nome Giovina, sia negli appellativi certamente poco gentili, ma sotto sotto affettuosi con cui Rantucci la presenta all'amico. È una schirchignatona, è un cerotto di moglie.